10 euro a testa al giorno Saranno pochi Ciao! In tanti ci avete chiesto Ma come fate con soli 10 euro al giorno a testa? In questo video proveremo a spiegarvelo E vi diremo cosa mangiamo Dove dormiamo E come ci spostiamo E allora vai! Eccoci, siamo a Panthai Cenang Sull'isola di Langkawi E per ce ne abbiamo scelto Un ristorante locale sulla strada Ecco cosa abbiamo orviato Questo è il nasi goreng ayam Cioè del riso fritto con del pollo e del uovo Poi abbiamo ordinato Uno sweet, sweet and sour Cioè un calamaro e un agrodolce Da accompagnare con del riso mollito E da bere Un tè freddo e un caffè freddo Oppure in posti come questo A Malacca Questo è un piatto royac con i noodles La salsina dolce è fatta con le raffi Stavamo passeggiando per le strade di Malacca E ci hanno invitato a questo banchetto Non sappiamo cosa sia Ma il cibo è davvero buono Noodles E tutto vegetariano Ma soprattutto Gratis Oggi per esempio siamo qua a Lumpur Abbiamo preso due bei piattoni di riso e verdure Ci sono dei curry, delle verdure cotte e una specie di frittata Il tutto per? 8 ringhita al piatto Cioè 1 euro e 70 circa Buono Questa è la nostra distanza Malacca Ci costa circa 4 euro a testa la notte Abbiamo uno spazio comune Non poter fare colazione Per il caffè gratis E poi c'è la nostra stanza Questa è la nostra stanza Un po' incasinata Ci abbiamo giocato ogni buona notte Con ventilatore E questi sono i bagni Un comune Ma abbastanza positiva Non ci si può lamentare Ci siamo Oggi è il nostro ultimo giorno in Malesia Da domani saremo in Birmania Cerchiamo di capire quanto abbiamo speso Per dormire circa 4 euro a testa a notte Per mangiare 3 euro al giorno Che includono pranzo e cena E infine 1 euro e 50 per ora di viaggio sugli autobus Poi altri piccoli spizzi che ci siamo tolti Totale 9 euro a testa al giorno E in Malesia ce l'abbiamo fatta a rimanere nel budget Bye